Se volete acquistare i crediti passate da vipcoinsfifa.com, veloce, sicuro e affidabile, e con il codice coupon MALATI15 avrete il 5% dei crediti in più. Bella a tutti ragazzi, io sono Silver dello staff di Noi Malati di Foot e sono qui oggi per portare la recensione di Welbeck Second in Form, giocatore inglese dell'Arsenal diventato parte della squadra della settimana grazie al gol rifilato alla Lituania in nazionale. Questa seconda versione in forma di Welbeck si presenta come S, alla sinistra, con un 82 di overall che si divide in un 88 in velocità, 86 in tiro, 76 in passaggio, 88 in dribbling, 42 in difesa e 83 in fisico. Io Welbeck l'ho usato in un 4-3-2-1 come ATS e devo dire che non mi è dispiaciuto in quel ruolo, anche se avrei di gran lunga preferito usarlo come ATT. Ora però partiamo dalla velocità, che si presenta con un 88 sulla carta, ma che si divide in un 89 di accelerazione e un 86 in scatto. Devo dire che la velocità di questo giocatore è davvero un pro. Anche se gli scatti non saranno fenomenali ma saranno buoni, sulle lunghe distanze Welbeck riusciva quasi sempre a staccare i difensori. A me è capitato spesso che difensori come Walker o Kishi, che sono molto veloci, non riuscissero a prendere Welbeck in velocità e così riuscivo spesso ad andarmene con facilità. Passiamo al dribbling. Dribling che si presenta con un 88 sulla carta ma che si divide in un 88 in dribbling, 93 in agilità e 85 in controllo palla. Il dribbling io penso che sia il punto di forza di questo giocatore, che grazie al 93 in agilità riuscirà a fare dei fantastici dribbling e sarà facile scattare gli avversari. Inoltre grazie al 85 in controllo palla riuscirà a tenere sempre il pallone attaccato ai piedi e sarà difficile portarglielo via. Purtroppo il dribbling è penalizzato dalle tre stelle di mossa abilità, che renderà molto più difficile fare skills con questo giocatore. Quindi vi consiglio di dribblare senza fare mossa abilità e poi in fondo con Welbeck, che secondo me basta girare la levetta e lui dribblerà come se niente fosse. Passiamo al tiro. Tiro che si presenta con un 86 sulla carta ma che si divide in un 86 in finalizzazione, 83 in longshot, 87 in rigori, 86 in potenza a tiro, 64 in tiro al giro, 99 in precisione di testa, 65 in punizioni. Il tiro è assolutamente un po' di questo giocatore. Grazie all'86 in finalizzazione Welbeck sbaglierà poco davanti alla porta e grazie all'86 in potenza a tiro fa dei tiri molto forti e difficili da parare. A Welbeck io ho fatto battere qualche rigore e non ne ha mai sbagliato uno, quindi devo dire che è un buon rigorista. Ovviamente questo giocatore non è adatto a battere le punizioni, in quanto ha solo un 65 in precisione e quindi vi consiglio di non usarlo per battere le punizioni. Io l'ho usato per battere un paio e non ho mai citato la porta. Purtroppo per il 64 di tiro a giro non farà dei bei tiri ad effetto, anzi farà molta fatica devo dire a piazzarla e tenerla bassa, a me capitava spesso di fare dei piazzati molto alti, che non c'entravano mai la porta. Grazie al 99 di precisione di testa Welbeck farà dei colpi di testa perfetti, anche se è penalizzato dal suo ruolo, in quanto un ATS è raro che colpisca di testa. Invece 83 in longshot, devo dire che questa statistica non mi ha per niente sorpreso, ma i suoi longshot sono dei tiri mediocri, cioè farà molta fatica a fare attraverso i longshot. Adesso però passiamo al passaggio. Passaggio che si presenta con un 76 sulla carta e che si divide in un 87 di passaggi corti, 67 di passaggi lunghi e 72 di cross. I passaggi corti di Welbeck, come la statistica, sono molto buoni, ma pecca un po' nei passaggi lunghi, quindi non vi consiglio di usarlo per fare grandi cambi di gioco. Mentre con un 72 di cross che secondo me è poco, infatti un ala secondo me deve avere almeno 80, poiché vi metterà sulla testa di un attaccante. Ora passiamo al fisico. Fisico che si presenta con un 83 sulla carta, ma che si divide in un 83 di forza fisica, 82 in salto e 82 in equilibrio. Questo giocatore ha un buon fisico, quando farà spallate con altri giocatori spesso lo esisterà. Inoltre grazie a un 82 in equilibrio cadrà poche volte. Invece un 92 in salto che lo renderà molto agile e sarà molto più facile che la prenda di testa. A me è capitato spesso che di testa anticipasse giocatori forti come Company o Botangle. Io aggiungerei come contro il wall crit che si presenta come alto alto e nonostante il 91 in posizionamento facevo fatica a trovarlo in posizione, poiché tornavo spesso in difesa. Poi come contro inserisco anche il ruolo che secondo me questo giocatore è sprecato come S. Questo è anche il motivo per cui gli ho dato 7 in valutazione. Se fosse stato ATT gli avrei dato un 8 pieno. Inoltre direi che 3 stelle piede debole sono poche, poiché lo renderanno meno efficace davanti alla porta se si troverà tirare col sinistro. Bene, io concludo qui la recensione di Danny Webexif. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e commentate dicendo cosa ne pensate di Webexif. Qui da Silver è tutto, bella.